una strega una strega ma no Ernesto non è una strega è una befana ah è una befana? si ah e che cosa ha portato la befana? mi ha portato una salsa mi ha portato un gelato un vino una caramella la caramella oh quante caramelle sei stata buonissima allora e dei cioccolatini adesso apriamo la tua ha portato qualcosa anche a me? si ah che bello e vediamo che cosa mi ha portato? una collana ah una collana? si poi un'altra collana a me ha portato la collana? si e poi cosa ci ha portato? ci ha portato il carbone il carbone? si ah e poi? un dolcetto ah e quello sarebbe un dolcetto? si e poi cosa ci ha portato? c'è altro altro per me? faccio vedere? si e che cos'è? le noci le noci le noci? si ma ma io non sono uno scogliattolo no 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 i dolcetti finti non li voglio e il carbone no io non sono stato cattivo e la collana? si una collana ah ma io non sono una femminuccia te la regalo la collana puoi prenderla? grazie ti piace bravi la collana con le caramelle? hai detto caramelle? si ah la collana che ti ho regalato è di caramelle? si Ernesto ah oh no